Da venti giorni con Julian di Nathanielo Torne Julian nel frattempo giocava lì intorno, non così lontano da non avvertire la mia presenza, e tuttavia abbastanza da potersi rivolgere a me solo gridando, e ogni volta che gridava la voce chiara di un bambino in lontananza ripeteva con un grido più flebile le stesse identiche parole, era l'eco, e così siamo giunti alle due e mezza. Il marmocchio si sta ora dondolando sul cavalluccio e mi parla alla massima velocità che la sua lingua consenta. Pietà, c'è mai stato un uomo più bersagliato di me dalle chiacchiere di un bambino? Al fondo di tutte quelle ciance c'è un gran bisogno di compagnia, vuole accrescere ogni suo piacere immergendolo nel cuore di un amico. Ho messo Julian a letto alle sette o giù di lì e sono andato a cogliere un po' di ribes. Mentre ero così impegnato è passata Mrs. Stappan, che costeggia il giardino dal lato del secondo fienile. Le ho chiesto se Julian avesse donato il coniglio a Ellen con il dovuto garbo. Lei ha riso e mi ha risposto di sì, aggiungendo però che la bestiola si è rivelata piuttosto fastidiosa, che Ellen la mattrattava e che il cane la inseguiva continuamente. Per farla breve, si trattava di un acquisto poco desiderabile. Ha detto che avrebbe potuto dare il coniglietto al piccolo Marshall Butler e poi, in risposta a qualcosa che avevo detto io sull'eventualità di porre fine alla sua esistenza, ha suggerito che l'avremmo potuto abbandonare nel bosco a cavarsela da solo. C'è in tal idea qualcosa di caratteristico che rivela il genere di sensibilità di chi trova sgradevole il dolore e l'infelicità degli altri, come se si trattasse di cattivi odori, ma si sente a perfetto agio una volta che quest'oro siano stati allontanati. Suppongo che per nessuna ragione al mondo Mrs. Stappan avrebbe ucciso il coniglietto, benché fosse pronta a esporlo alla certezza di una morte lenta di fame, senza alcuno scrupolo o rimorso. Vedendo che non c'era altro da fare, le ho proposto di riprenderlo e lei ha promesso di riportarmelo domani. Giuliano ha passato il pomeriggio in un modo molto vario, costruendo una frusta, poi un arco e delle frecce e giocando a Shanghai contro se stesso. Non credo fosse trascorsa un'ora dal pranzo quando ha cominciato ad assillarmi perché gli dessi qualcosa da mangiare, anche se aveva abbondantemente pranzato con riso e fagiolini. Gli ho concesso una fetta di pane a metà pomeriggio, ma un'ora dopo ha cominciato a chiederne ancora, gridando a pieni polmoni e picchiandomi perché glielo negavo. Ha davvero la forza di un piccolo gigante. Proprio adesso mi ha chiesto che cosa sono le domande sensate, con l'intenzione e presumo di farmene qualcuna. Dopo pranzo mi sono seduto a leggere un libro nel salottino e per la prima volta da quando sua madre è partita, Julian si è allontanato ed è scomporsa per un'ora. Alla fine mi sono detto che era giunto il momento di cercarlo. Ora che sono solo con lui, infatti, alle mie ansie si aggiungono tutte quelle della madre. Così sono andato nel fienile e poi nei pressi dei cespughi di Ribes. Ho fatto il giro della casa gridando senza ottenere risposta e alla fine mi sono seduto sul fieno non sapendo più da che parte cercarlo. Ma di lì a poco l'ho visto sbucare da dietro la casa. Correva tutto sorridente levando in alto il piccolo pugno e gridando che aveva una cosa buonissima per me. La cosa buona si è rivelata una poltiglia di lamponi more e Ribes rimasti a cuocere nel suo pugno per più di un'ora. Un tipo di preparazione che avrebbe indotto sua madre ad apprezzare quei frutti ancora di più. Non ho avuto cuore di rifiutare del tutto il suo dono. Perciò ho preso un po' di Ribes che per puro caso non era stato schiacciato e gli ho promesso di mangiare il resto perché mi ha detto di non averne assaggiato neppure un po'. Mentre ero impegnato nella lettura sulla strada è passato un uomo a cavallo che mi ha salutato in spagnolo. Gli ho risposto portandomi la mano al cappello e ho continuato a leggere. Ma quando il cavaliere ha rinnovato il suo saluto l'ho guardato con maggiore attenzione e mi sono accorto che era Herman Melville. Allora Julian e io ci siamo affrettati a tornare sulla strada e dopo i convenevoli ci siamo avviati tutti insieme verso chiasa chiacchierando. Melville è subito smontato da cavallo e ha fatto salire in sella Julian. L'ometto era compiaciutissimo e seduto con la scioltezza e la temerarietà di un cavallerizio provetto ha cavalcato verso casa per almeno un miglio. Ho chiesto a Mrs. Peters di preparare del tè per Herman Melville ma lui ne ha bevuto soltanto una tazza perché temeva l'avrebbe tenuto sveglio. Dopo cena ho messo Julian a letto e Melville e io abbiamo parlato del tempo e dell'eternità, di cose di questo e dell'altro mondo, di libri, di editori e di ogni argomento possibile e impossibile fino a notte fonda e a voler essere del tutto sinceri abbiamo anche fumato un sigaro entro i sacri recinti del soggiorno. Alla fine Melville si è alzato, ha sellato il cavallo che avevamo messo nel fienile e si è diretto verso casa mentre io ho subito approfittato del poco tempo rimastomi per dormire. Sono Elisabetta e ho voluto leggervi questi brevi passi dal libro di Uthorne perché mi sembrano significativi. Sono di una quotidianità normale, direi quasi spaventosa e però anche di una profondità incredibile, la profondità che c'è nella nostra quotidianità e c'è l'incontro con Melville, uno spirito che Uthorne trova molto affine che nella sua semplicità mi pare anche questo, di una profondità incredibile. Spero che possiate rintracciare questo libro, leggerlo perché è veramente un libro che ho trovato molto contemporaneo, molto fresco, molto vero nella sua estrema semplicità. È un diario di bordo che l'autore ha tenuto nei venti giorni che è rimasto separato dalla moglie e dalle altre due figlie che erano in visita ai genitori di lei ed è un resoconto familiare, molto semplice ma molto bello. Grazie.